Inauguriamo questa mattina questa nuova uscita a Colli Aminei, è un'opera finanziata integralmente dalla regione Campania per una decina di milioni di euro. Ho riconfermato anche l'impegno a investire un altro miliardo e 700 milioni di euro per completare la linea 6 dalla mostra d'oltremare a Piazza Municipio e altri due tratti della linea 1 da Piazza Dante a Piazza Garibaldi e da Piazza Garibaldi a Capodichino. Quindi è un investimento importante che assicura la regione Campania per completare la rete di trasporto su ferro. È evidente che questo rappresenta una svolta straordinaria nel modo di vivere dei cittadini a Napoli ma anche per le prospettive di sviluppo turistico della nostra città. Una particolare soddisfazione è per il servizio che garantiamo per l'ospedale Cardarelli. Sapete che siamo impegnati anche su questo secondo fronte.